e riviusi a smr ciao amici fiusini buonasera come state? spero tutto bene stasera perché è sera mangeremo la pizza con voi eh si ragazzi una bella VNS ragazzi andremo a mangiare la pizza insieme a voi siete pronti ragazzi adesso la andremo a tagliare e mangerò la pizza con voi siete contenti ragazzi ma guardate che bella questa pizza la VNS è la mia pizza che è la mia pizza preferita quindi andiamo subito a tagliarla e a mangiarla insieme un piccolo problema dei lingon per o dai ma quanto è buona quanto è buona la pizza ragazzi io la vado allora sapete che la la viennese è la mia pizza preferita quindi ragazzi me la posterò con voi stasera goza 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 mmm Alla prossima Alla prossima Alla prossima E' Zeus Eccolo, eccolo Eccolo qua Alla prossima Alla prossima La crosta super morbida Si perché l'ho fatta fare poco cotta Perché me la crosta Tanto croccante A me non piace perché Dopo non la riesco a mangiare Invece così È molto più friabile Alla prossima 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 Sì, è molto bello. Sì. Sì. ... 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 Sì! bene ragazzi io vi do appuntamento al mio prossimo video vi ringrazio di essere stati qua e buona serata a tutti ciao